Musica Alvia la 60esima edizione del Festival di Maiano, storica rassegna musicale e culturale del Friuli Venezia Giulia, che si terrà per l'estate 2020 dal 24 luglio al 16 agosto. Con noi Daniele Stefanutti della Pro Maiano, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Daniele, dopo un lungo periodo di lockdown e di restrizioni, la gente naturalmente ha bisogno di momenti di svago e di divertimento. Vogliamo ricordare agli ascoltatori quali sono gli eventi più importanti della 60esima edizione e gli ospiti che avete in scaletta? Beh, con un piccolo miracolo direi in breve tempo, perché c'era già una programmazione pronta a febbraio, siamo ripartiti da zero e oggi, possiamo dirlo, a distanza di 20 giorni dall'apertura del Festival, avremo Francesco Gabbani in apertura proprio, per poi passare a NEC, avremo anche la fortuna di portare in egrita nuovamente a Maiano, tutta la band al completo di Vascorossi e vari e altri concerti che le faremo proprio nell'area addetta a tali spettacoli, che sarà un'area covid free, finanziata anche dalla Regione, per cui ci teniamo a dire, ci sarà la musica, la grande musica a Maiano, ma anche la grande musica in sicurezza. Bene, è un ricco programma quindi, ma non tutti sanno quanto impegno e quanti sacrifici ci vogliono per organizzare un festival, specialmente come quello di Maiano, con tutti questi ospiti. Cosa significa far rispettare le regole, la distanza di sicurezza? E come vi siete effettivamente organizzati per quest'estate 2020 così difficile? Sì, sarà un'estate particolare per noi, il nostro sessantesimo festival, però l'abbiamo ripensato cercando di rispettare tutte quelle che sono le normative, le regole e le linee guida che lo Stato e la Regione impone. Quindi in brevissimo posso dire che ci sarà un ingresso obbligato per l'area delle degustazioni del cibo, un ingresso obbligato, un'uscita obbligata, uno spazio contingentato quindi con un certo numero di visitatori che potranno accedere all'area e in quest'area ovviamente ci saranno un servizio al tavolo da parte nostra quindi il visitatore che arriva potrà fare lo scontrino fiscale per poi accomodarsi al tavolo e noi pensiamo al servizio. Quindi questo è in essenza il modo di divertirsi, dandoci una mano che è quello che vogliamo perché tutto funzioni e tutto sia fatto in estrema sicurezza. Quindi a parte il bel tempo, cosa vi aspettate dalla gente che visiterà i chioschi e le vostre serate? Ci aspettiamo innanzitutto che si divertano e che sia veramente un momento di ripresa della propria vita, del proprio modo di essere e questo è l'auspicio che abbiamo nell'aver fatto una manifestazione così. In seconda battuta sicuramente ci aspettiamo l'educazione da parte di tutti nel fruire di uno spazio che deve essere usato come lo stato pensato e quindi con le norme che oggi sono necessarie e anzi direi indispensabili per non creare problemi a nessuno. Bene, ti ringrazio Daniele e prima di chiudere vogliamo ricordare agli ascoltatori le date e i siti utili per trovare tutte le informazioni. Senz'altro le date dal 24 di luglio al 16 di agosto, poi il calendario completo della manifestazione lo potrete trovare sul nostro sito internet che è www.promayano.it oppure sulla pagina Facebook nostra che è Festival di Maiano. Grazie, perfetto. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Grazie a tutti.